Siamo nel foro dell'antica città romana di Liternum che fu fondata dai romani sulle sponde alle foci del fiume Clanis, sulle sponde di quello che oggi è il lago Patria, che oggi chiamiamo lago Patria nel 193 a.C., su una porzione di territorio che verosimilmente era appartenuta all'antica città greca di Cuma e che nella riorganizzazione dell'Italia romana nella tarda età repubblicana fu occupata da una colonia, una colonia fondata perché fosse abitata dai veterani delle guerre puniche, in particolare dai soldati del generale Scipione, detto l'africano, che era il generale romano che aveva sconfitto Annibale, il quale aveva invaso l'Italia alla fine del III secolo a.C. e poi era stato costretto a ripiegare in Africa, dove era stato sconfitto dai romani che lo avevano inseguito. La sistemazione di questi veterani delle guerre puniche, che erano molti, un enorme numero di soldati, le guerre puniche furono un enorme sforzo militare per Roma, richiese la requisizione di grandi porzioni di territorio e la fondazione di nuove città abitate da questi soldati, che avevano combattuto a volte anche per un ventennio e quindi venivano ricompensati da Roma con questo tipo di liquidazione. L'Iternum fu fondata nel 193 in quest'area che oggi è di pertinenza del comune di Giuliano in Campania. In questo momento ci troviamo al centro della piazza Forense, il foro era il cuore amministrativo e anche sociale delle antiche città romane. Ogni colonia, così come ogni città romana di qualunque statuto fosse dotata, aveva una piazza centrale sulla quale si affacciavano i principali edifici pubblici. In particolare abbiamo il Tempio della Colonia, forse un Capitolium, forse un Tempio dedicato a Giove, sicuramente il Tempio della Colonia Romana, il teatro in quella zona e la basilica, cioè l'edificio in cui avveniva la vita pubblica, avvenivano i dibattimenti giudiziari, si archiviavano i procedimenti amministrativi. La basilica della città, tutto è su questo lato del foro. Il foro era poi completato da una serie di ambienti sugli altri lati, verosimilmente adibiti a edifici pubblici di cui non abbiamo però la certezza, della cui funzione non abbiamo però la certezza, molti però dovevano essere sicuramente attività commerciali, taberne, botteghe, attività commerciali di vario genere. L'impianto attualmente visibile fu scavato nella prima metà del XX secolo. Gli scavi poi sono ripetuti in maniera più puntuale alla fine del XX secolo, si sono ripetuti più saggi di controllo. Attualmente il Parco archeologico dei Campi Flegrei ha dato una concessione di scavo all'Università della Tuscia di Viterbo che si sta occupando di fare una serie di saggi di verifica intorno al Tempio e tra il Tempio e il Teatro. I monumenti, così come li vedete, quelli meglio conservati, appunto Teatro, Tempio e Basilica, risalgono a una fase che possiamo datare grossomodo nella prima metà del I secolo d.C., immediatamente prima che da questa zona passasse la Via Domiziana che collegava questa zona, la Campania, con Roma. Dunque, gli scavi della prima metà del Novecento in realtà furono occasionati dalla notizia antica che Scipione, il generale che aveva poi fondato questa città, vi si fosse ritirato e vi fosse morto. Come ancora succede oggi, i grandi personaggi militari e politici all'epoca subivano tutta una serie di attacchi. Scipione subì una serie di attacchi giudiziari, fu accusato di essersi appropriato di una parte del bottino di Cartagena e quindi si ritirò dalla vita pubblica. Fu così deluso dal comportamento dei suoi concittadini che si ritirò, se ne andò proprio da Roma e si ritirò nella città, in una delle città che lui aveva fondato, proprio l'Iternum, dove morì e fu sepolto. Le fonti antiche, Livio, Seneca, ci raccontano di questo sepolcro di Scipione, per cui già in epoca fascista si programmarono, nel momento in cui una parte del territorio fu bonificata, si programmarono una serie di ricerche per ritrovare la tomba di Scipione. Ragion per cui quando vennero fuori queste strutture, le strutture del Tempio, si pensò di aver trovato la tomba di Scipione, per cui da allora in poi, ancora oggi si dice, si parla di questa zona come la tomba di Scipione, fatto che non è corretto perché per l'appunto siamo nel foro della città, cioè nella piazza civica, nella piazza centrale. Le tombe, in realtà, di chiunque, appartenenti a chiunque, dovevano essere, per una serie di provvedimenti legislativi in vigore sempre in età romana, dovevano essere poste al di fuori dell'abitato, in realtà al di fuori di quello che era il limite sacro della città. Tutte le città romane, quando venivano fondate, il primo atto, uno dei primi atti che i fondatori facevano era recingere il percorso della città, cioè fare il perimetro segnalare sul terreno il perimetro della città. Questo perimetro segnalato si chiamava pomerium ed era un limite sacro. All'interno del pomerium nessuno poteva essere sepolto, se non in casi eccezionali. Quindi, se qui siamo nel foro e lo siamo perché abbiamo le iscrizioni, perché abbiamo identificato i monumenti in vari modi, non può esserci nessuna tomba, men che meno quella del generale. Allora, stamattina siamo qui al sito archeologico di Literno Maggiuliano su un progetto finanziato dalla città metropolitana per la messa in sicurezza dell'antico tempio romano. Qui alle mie spalle c'è l'antico foro romano, dove la città metropolitana, con un intervento di circa 50.000 euro, sta mettendo in sicurezza la base del vecchio tempio, riconsolidando la colonna del foro e oltretutto stiamo provvedendo a rifare anche una facciata del tempio. Tutto questo per un'ottica di valorizzazione di queste aree. Devo dare atto al sindaco dei magistris che ha un'attenzione particolare e quindi stiamo cercando di portare alla luce e di far risorgere quello che è stato negato al pubblico per tanti anni, cioè una vecchia cittadina romana dove si narra che fu sepolto Scipione l'Africano. Ci tengo particolarmente a questa zona perché è una zona che potrebbe usare, partendo proprio da questi tempi, da questa storia, un volano di sviluppo per l'intera aria. Noi abbiamo iniziato in città metropolitana anche con la consigliera delegata ai siti UNESCO Elena Coccia, proprio un percorso di valorizzazione di quest'area e abbiamo portato questo sito archeologico al Salone Mondiale dell'UNESCO. Quindi questo percorso congiunto con la consigliera Coccia, con il consigliere Nicola Pirozzi e i lavori pubblici, con la città metropolitana e l'attenzione che il sindaco metropolitano De Magisti sta dando a queste aree sono convinto che in pochi mesi riusciamo a rendere anche fruibile al pubblico questo bene prezioso che abbiamo su questo territorio. Ringrazio il Ministero dei Beni Culturali che ha nominato tramite il Parco archeologico dei Campi Fregei anche il direttore di questo sito in particolare. Quindi per la prima volta noi ci interfacciamo col Ministero direttamente con un suo referente sul territorio. Io sono convinto che questa sinergia possa veramente in tempi brevi portare a risultati fantastici. L'obiettivo che ci siamo preposti è quello che in tempo breve vogliamo rendere fruibile e accessibile sia alle scolarische che al pubblico queste aree. Questo lo facciamo congiuntamente con il Ministero che ci sta dando un supporto e sono convinto che in tempi brevi riusciamo a raggiungere questo importante obiettivo. Siamo qua al sito Liternum, finalmente si inizia a fare sul serio. Stiamo iniziando con la città metropolitana per la riqualificazione di questo sito. È solo un piccolo intervento iniziale di circa 50 mila euro. È un primo passo. Io penso che tutti i consiglieri metropolitani del territorio insieme al sindaco De Magistris vogliamo riqualificare questa zona. Quindi ci impegneremo tutti i consiglieri senza colore politico per portare alla vivibilità di questo sito. Perché oggi anche il cittadino giulianese del territorio non conosce l'importanza, la storia di questo sito. Quindi sarebbe un bel successo della città metropolitana far rinascere la storia. Dobbiamo partire dalla storia per capire oggi cosa può riqualificare questo territorio. La città di Giuliana è una città difficile e quindi partire da qua significa volere fare veramente sul serio. Quindi io mi impegnerò insieme ad Agosto, al consigliere Cacciapur, ma tutti i consiglieri della zona Marrazzo, al sindaco De Magistris, tutti insieme ad Elena Cocci, tutti insieme per operare senza colori politici per la riqualificazione di questo sito. Io penso che anche il sindaco De Magistris sarà molto sensibile a questa tematica.